ciao a tutti e bentornati qui cesanna nel video di oggi andremo finalmente a testare insieme la divine blush collection di pat mcg io ho acquistato un blush un illuminante e la palette occhi quindi direi che c'è di che sbizzarrirsi detto questo come sempre bando alle ciance e cominciamo questa collezione in realtà comprendeva anche altri prodotti due liban colorati una matita labbra un rossetto matte e due pennelli che però ho deciso di non acquistare perché erano prodotti che non mi incuriosivano particolarmente vi confesso in realtà che all'inizio non avevo acquistato nemmeno la palette occhi che invece poi mi è stata regalata e per fortuna perché è un prodotto che piccolo spoiler mi piace moltissimo e è una limited edition quindi se non l'avessi più ritrovata probabilmente mi sarei poi mangiata le mani come vedete ho già la base fatta per rimanere in tema sulle labbra indosso un altro prodotto di pat mcgraf è un gloss un last gloss nella colorazione divine rose è una delle mie formule di gloss preferite se volete qualche informazione in più l'ho recensita in questo video qui sulle guance invece indosso questo bronzer della collezione fruit explosion di kiko anche questa recensita sul canale giusto per dare un tocco low cost ad un video high end detto questo possiamo partire con il primo prodotto che è il blush questo è il packaging esterno bellissimo devo dire che pat con i packaging ha sempre quel tocco in più questa volta addirittura era lilla e quindi come non potevo non innamorarmene si apre con una linguetta e all'interno abbiamo appunto il packaging interno del prodotto che è molto classico e molto in linea con quello anche dei quad di pat mcgraf è nero ha un certo peso e si apre con un bottoncino qui sul davanti in alcune recensioni ho sentito delle persone lamentarsi di questo perché avrebbero preferito la chiusura magnetica come nei quad per gli occhi devo dire che a me non dispiace la qualità del pack mi sembra buona questi bottoncini forse sono un pochino più fragili rispetto alla chiusura magnetica perché rischiano più facilmente di rompersi però come vi dicevo io per ora non ho avuto nessun problema quindi in realtà se non me l'avessero fatto notare non ci avrei nemmeno pensato all'interno abbiamo uno specchio e questo è il nostro blush come vedete l'intarsio è bellissimo con queste rose io appena ho visto i blush di questa collezione me ne sono innamorata sono talmente belli esteticamente ma anche come colorazioni che io le avrei acquistati tutti ci sono nove colorazioni e davvero io avrei acquistato tutte le prime sei senza problemi le ultime tre no ma semplicemente perché erano troppo oscure per il mio incarnato ovviamente parliamo di un prodotto che ha un certo prezzo quindi bisogna fare delle scelte sono stata a lungo indecisa tra questa colorazione e la colorazione divine rose che però era matt e nelle stories prima del lancio il brand mi aveva incuriosita con tutti questi blush con un effetto un pochino perlescente e quindi alla fine ho optato per questa tonalità che è ninfet definita soft pink with golden pearl quindi con una perla dorata che è poi quella che mi ha fatto optare per questa colorazione questa è la colorazione che devo dire mi piace moltissimo è un rosa neutro e come vedete ha questo bellissimo shift dorato che però non è assolutamente eccessivo non fa sforare questo prodotto in un illuminante cosa che al momento dell'ordine un pochino mi preoccupava ma è davvero molto molto delicato questo blush infine è un classico blush in polvere quindi la texture è quella ma devo dire che è molto molto setoso e molto sottile ha anche una profumazione cosa che non mi disturba assolutamente perché a meno di non andare ad annusare il prodotto non la percepisco quindi non mi dà assolutamente fastidio passiamo adesso a quella che è la nota un po' dolente di questi prodotti ovvero il prezzo questo blush costa 38 euro abbiamo 9,7 grammi di prodotto e un paio di 18 mesi che è un pochino più alto della media di 12 mesi e questo non mi dispiace assolutamente un'altra cosa che non mi dispiace assolutamente è che ordinando dal sito edipat non c'è dogana quindi non rischiamo brutte sorprese quando riceviamo i pacchi ed io non ho pagato nemmeno la spedizione si pagava solo se si voleva la consegna espressa che era anche abbastanza costosa e alla quale io ho rinunciato perché ho già investito parecchio per acquistare questi prodotti investire anche nella consegna espressa mi sembrava davvero troppo di solito con gli ordini sul sito di pat soprattutto quando ci sono gli sconti o dei nuovi lanci si sa si mette in conto che ci sarà da aspettare in realtà questa volta sono rimasta sorpresa perché ad arrivare ci hanno messo circa due settimane ci ho messo un po' di più per il video perché nel frattempo avevamo ordinato anche la palette che era un regalo e quindi ho voluto aspettare di avere tutto per girare il video passiamo adesso all'applicazione vado col mio solito pennello della smashbox ovvero il buildable cheek e andiamo ad applicarlo la pigmentazione di questo blush io la definirei media nel senso che riusciamo tranquillamente a costruirlo senza fare macchia ma non dobbiamo nemmeno stratificarlo troppo la sfumabilità è davvero molto molto buona e questa colorazione mi piace perché trovo si abbine molto molto bene al mio incarnato diciamo che essendo un blush costoso sono andata sul sicuro per quanto riguarda la colorazione perché volevo poi un prodotto che avrei sfruttato eccolo qui come vedete si percepisce anche la leggera luminosità di questo prodotto che però devo dire non è eccessiva e non va troppo ad enfatizzare la texture della pelle per fortuna perché come vi dicevo avevo paura al momento dell'ordine di ritrovarmi un prodotto davvero troppo luminoso invece lo shift è molto bello ma rimane comunque molto elegante non troppo presente questo è un blush che mi è piaciuto moltissimo ed è un prodotto che sono davvero molto molto felice di aver acquistato non escludo con i saldi di acquistare anche altre colorazioni sinceramente non li acquisterei a prezzo pieno perché succede una o due volte l'anno che pat sul suo sito faccia degli sconti anche notevoli ad esempio il 30 o il 25 per cento su tutto il sito quindi se è un prodotto che vi piace ma non siete disposti ad investire questa cifra vi consiglio di aspettare appunto uno di questi momenti con gli sconti per approfittarne l'ultima cosa che ci tengo a segnalarvi su questo blush è la durata su di me e la mia pelle un pochino problematica da questo punto di vista ha una buona durata che io definirei nella media non è il blush che dura di più nella mia makeup collection quello penso sia un blush davvero low cost di e.l.f. che se volete ho recensito in questo video ma comunque una buona durata nelle ore quindi anche da questo punto di vista approvato passiamo adesso all'illuminante il packaging esterno è lo stesso del blush e se andiamo ad aprirlo è identico anche il packaging interno che non è che sia un malus è un packaging molto molto bello ma mi sarebbe piaciuta una leggera differenza per poterli distinguere tra loro ovviamente sul retro è segnalato che questo è l'illuminante però a primo sguardo se andiamo a comparare i due packaging sono davvero davvero identici e quindi non mi sarebbe dispiaciuto avere un dettaglio in più per distinguerli più facilmente se andiamo ad aprirlo questo è l'illuminante eccolo qui e da questo punto di vista abbiamo una grande differenza nel rapporto quantità prezzo questo illuminante infatti costa 48 euro quindi 10 euro in più del blush e abbiamo 4,6 grammi di prodotto mentre il blush come vi dicevo ne conteneva 9,7 quindi siamo davanti ad un prodotto ancora più costoso era tantissimo che volevo acquistare un illuminante di Pat e mi ero detta appena esce una tonalità che non sia rosata perché i due precedenti illuminanti usciti sul sito erano rosati e non sono illuminanti che utilizzo particolarmente quindi mi ero detta appena esce un colore champagne vado e lo ordino e quindi appena è stato rivelato che la nuova colorazione sarebbe stata uno champagne io mi sono fiondata subito ad acquistarlo in realtà è molto più scuro di quanto mi sarei aspettata infatti poi una volta usciti ufficialmente i prodotti sul sito io fino a quel momento avevo visto solo delle stories questa colorazione non è stata definita champagne bensì oro cosa che mi ha fatto un po' paura al momento dell'ordine perché appunto temevo fosse troppo scura per il mio incarnato la colorazione è molto molto bella è un oro sì ma io lo definirei un oro che vira verso il rose gold quindi anche in questo caso un oro rosato che però non mi dispiace perché almeno non lo rende il solito illuminante oro troppo scuro per me ma c'è questa componente che lo rende un pochino più particolare questo è comunque un illuminante che io con la mia carnagione chiara non potrei utilizzare tutto l'anno posso farlo adesso e più avanti quando sarò più abbronzata ma non vi preoccupate perché ho pensato ad un modo alternativo di utilizzarlo che mi piace molto e che vi farò vedere poi per quanto riguarda la texture anche in questo caso siamo davanti ad un prodotto in polvere ma che anche in questo caso è davvero ossitosissimo toccandolo seppur rimane un prodotto in polvere è talmente morbido che sembra quasi di toccare una crema anche in questo caso abbiamo una leggera profumazione ma anche in questo caso se non vado esplicitamente ad annusarla non la percepisco e quindi non mi crea nessun problema vado a prelevarlo batto l'eccesso per applicarlo utilizzo questo pennello di Nabla e intanto lo applico solo da questa parte perché su questa guancia andremo a fare qualcosa di un pochino diverso eccolo qui è un illuminante che io definirei bello intenso è bello presente infatti secondo me non è necessario stratificarlo particolarmente non ha una grandissima base colore quindi non rischiamo strisciate come può succedere con alcuni illuminanti con una base colore più presente o più metallici però devo dirvi che essendo un illuminante molto luminoso va ad enfatizzare la texture della pelle è però una formula molto sottile quindi non fa strato non fa appunto un effetto strisciata ma come tutti gli illuminanti così luminosi va a rendere più evidenti in questa zona i miei pori dilatati la texture però devo dirvi è molto molto sottile quindi si fonde davvero bene all'incarnato per quanto riguarda la durata devo dire che anche in questo caso abbiamo una buona durata non è l'illuminante con la miglior durata nella mia make up collection ma anche da questo punto di vista devo dire si comporta bene la colorazione a me piace ma secondo me è un po' troppo scura e soprattutto sarà un po' troppo scura per me nei mesi invernali al momento va bene andrà ancora meglio quando sarò più abbronzata non lo definirei un illuminante universale per questo e perché sinceramente io il blush me lo aspettavo un pochino più luminoso non so se sono stata influenzata dai tutorial prima del lancio di questi prodotti io i blush li vedevo molto più luminosi in camera e quando ho ricevuto questo illuminante e ho visto questa componente rosata all'interno ho detto perché non provare a testarlo come top coat e così ho fatto e faremo oggi noi insieme vado a prendere quindi un pennello molto più fluffy è sempre un pennello d'illuminante ma più grande e con le setole più morbide e lunghe vado a prelevare pochissimo prodotto anche perché come potete vedere dal pen questo illuminante spolvera parecchio quindi vi consiglio di battere ben bene l'eccesso vado appena ad appoggiare il pennello meglio stratificare che appunto ritrovarmi con una strisciata luminosa su tutta la guancia e vado ad applicarlo da questa parte come top coat al di sopra del mio blush questo è il risultato e devo dire che a me piace moltissimo e questo è possibile perché questo illuminante ha come vi dicevo questa componente rosata e questa base colore non troppo presente con una texture sottilissima che ci permette di utilizzarlo appunto anche come top coat per andare ad aumentare la luminosità del nostro blush l'ho utilizzato in combo anche con dei blush matt e devo dire che si è comportato molto molto bene questa seconda funzione dà più valore al mio acquisto perché essendo un prodotto che non potrei utilizzare tutto l'anno semplicemente come illuminante utilizzandolo come top coat riesco a sfruttarlo di più e quindi a far fruttare il mio investimento tra l'altro fatemi sapere giù nei commenti se vi piace di più utilizzato come illuminante o come top coat ovviamente quando utilizzo questo illuminante con questa funzione di top coat non vado ad aggiungere al di sopra altro prodotto o un altro illuminante perché altrimenti l'effetto sarebbe davvero eccessivo detto questo possiamo passare al prossimo prodotto che è la palette anche in questo caso abbiamo il nostro pack lilla ma diverso dai soliti pack dei quad di Pac Magra che di solito presentano questo packaging un pochino più particolare con questa apertura molto molto caratteristica che in questa collezione non è presente questo è il quad ritualistic rose che se volete ho recensito anche qui sul canale in questo caso invece abbiamo il pack classico come per gli altri prodotti che si apre in questo modo semplicemente aprendosi quasi fosse una tasca andiamo a prelevare la nostra palette il pack interno invece è quello classico di tutti i quad di Pac Magra in questo caso abbiamo 4,9 grammi di prodotto il power è sempre di 18 mesi ed il costo di 59 euro questa palette come in realtà ha anche il blush e l'illuminante è made in Italy che è sempre sinonimo di ottima qualità andiamo ad aprirla in questo caso come vi dicevo la chiusura è magnetica all'interno abbiamo uno specchio e queste sono le quattro shade della palette abbiamo un matte e tre luminosi con diverse texture i nomi delle quattro shade sono Moonlight Liaison definito Glimming Gold Champagne Rose Fire Nectar Coral Rose Duo Chrome Sparkle After Dusk Mohogany Brown Matte e Twilight Bronze Platinum Bronze Shimmer detto questo non ci resta che passare al look occhi come vedete ho già applicato un primer si tratta del Be Perfect Perfect Prime della Be Perfect e possiamo partire con l'unica shade matte di questa palette che all'inizio mi spaventava un pochino perché come vedete ha una colorazione abbastanza scura ed io avevo paura lo fosse troppo per essere sfumata nella crease poi però ho visto alcuni tutorial tra cui quello di Mel Thompson che poi è il look che andremo a ricreare oggi lei è riuscita ad utilizzarla senza problemi perché si sfuma molto molto bene e quindi ho deciso di farlo anch'io tra l'altro lei ha acquistato tutte le shade di blush e le ha anche applicate quindi se siete curiosi di vedere tutte le colorazioni vi rimando al suo video detto questo possiamo partire prendo un pennello che ho lanciato non so dove è uno che fa parte del set di Eri Chioba quello un pochino più piccolino da sfumatura vado a prelevare la shade e la tampono all'angolo esterno del mio occhio come vedete la pigmentazione è presente sin da subito questi ombretti sono molto pigmentati ma anche molto sfumabili come vi dicevo tampono questa colorazione all'angolo esterno e poi pian pianino mi alzo e vado a sfumarla all'interno della mia crease come vedete la colorazione è presente molto pigmentata ma si sfuma anche molto molto bene bisogna prendersi un pochino di tempo non sono quegli ombretti che si sfumano in 0-2 proprio vista la pigmentazione ma se ci prendiamo il tempo di lavorarli si sfumano comunque molto molto bene se vi spaventa un pochino la pigmentazione potete utilizzare un colore più chiaro in transizione o andare a settare la palpebra con un ombretto color pelle per aiutare la sfumabilità in realtà avrei potuto prelevare anche meno prodotto perché come vedete la pigmentazione è davvero presente e con pochissimo ombretto si riesce davvero poi a coprire gran parte della palpebra mi prendo il tempo di sfumarlo per bene come vi dicevo poi pian pianino mi alzo verso l'alto mano a mano che il pennello è più scarico di pigmento poi prendo un pennello più fluffy questo è quello di Neve Cosmetics e lo uso per sfumare i bordi prendo poi la colorazione shimmer quella più scura ma classica quindi non il duochrome che è la shade Twilight Bronze e la applico con le dita su tutta la palpebra mobile questa shade è bellissima anche da sola ma noi la utilizzeremo come base per la shade duochrome che è molto molto bella ma anche molto glitterata e non ha una grandissima base colore quindi preferisco dargli intensità con un altro prodotto al di sotto lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile anche un pochino al di sopra del matte che abbiamo applicato in precedenza perché poi eventualmente andremo a rintensificarlo in seguito mi pulisco il dito su un panno struccante e adesso andiamo con la nostra shade duochrome che come vi dicevo è molto bella ma anche molto glitterata quindi la base colore non è molto presente in questo modo andiamo ad enfatizzare la colorazione molto molto di più questa è una shade che davvero dovete applicare con le mani perché è molto molto volatile altrimenti rischiate tantissimo fallout altrimenti se volete applicarla con un pennello e non con le dita vi consiglio davvero di utilizzare una glitter base come ad esempio questa qui della NYX con la quale io mi trovo molto molto bene perché se davvero non andiamo a pressarlo e tamponarlo rischiamo davvero di ritrovarcelo su tutto il viso io vado a prelevarlo con le dita e lo tampono al di sopra dell'altra colorazione beh che dirvi? secondo me questa shade parla da sola è davvero bellissima, luminosissima ed ha questo bellissimo riflesso onestamente anche applicandolo con le dita un po' di fallout neanche un po' a dire la verità fallout ne ho qui sulla guancia non tocco nulla passerò poi con un pennello grande da cipre a rimuovere il tutto in generale forse sarebbe stato meglio applicare la glitter glue al di sotto la colorazione comunque è davvero bellissima e come vedete dà quel tocco in più eye look è la caratteristica di queste shade un pochino speciali che Patti inserisce all'interno dei suoi quad prendo poi un pennellino più piccolino questo è di mesauda le 05 che è un pennello sia penna ma abbastanza cicciottello quindi possiamo utilizzarlo anche per delle sfumature di precisione cicciottello e con le setole abbastanza lunghe quindi vado a prelevare ancora la shade matte quella che ho applicato all'inizio in transizione e questa volta la utilizzo per intensificare l'angolo esterno dell'occhio quindi ne vado ad applicare ancora qui all'angolo esterno e poi pian pianino la sfumo nella parte più esterna della crease proprio per andare a dare intensità alla parte finale dell'occhio e come vi dicevo pian pianino vado poi a sfumarlo nella crease in questo modo con la stessa colorazione abbiamo la transizione dove l'abbiamo sfumato di più e poi siamo riusciti anche ad intensificare l'angolo esterno con un pennellino più piccolo e sfumandolo meno si è fermata la telecamera io non so assolutamente dove quello che sono andata a fare è stata riprendere la colorazione matte della palette con un pennellino piccolino piatto questo è il 237 di tail shader di zoeva e sono andata a sfumarla su tutta la mia rima ciliare inferiore andando poi a ricongiungermi alla parte superiore del mio look proprio in modo da andare ad incorniciare l'occhio prendo poi un pennellino sempre piccolino e piatto questo è il jash 42 del set di morphe in collaborazione con jacqueline hill la shade più chiara della palette che è un bellissimo shimmer perfetto per andare ad illuminare l'arcata sopraccigliare ne basta pochissimo perché anche in questo caso è uno shimmer bello presente e luminoso perfetto per questa funzione e per andare ad illuminare l'angolo interno dove in realtà preferisco sempre andare con il mio mignolino per farla aderire meglio come vedete anche questa shade è luminosissima è un look molto intenso quindi deve piacere devo dire a me non dispiace assolutamente se per voi è troppo è necessario aggiungere un colore di transizione più chiaro rispetto a quello presente nella palette detto questo andiamo a completare il look prendo una matita nera questo è il milk boss liner che purtroppo è fuori produzione milk ha deciso di non produrre più questo prodotto lo vado ad applicare nella rimacigliare superiore tolgo il gatto dal tavolo che sta andando in giro disgraziato di un mimao peli dappertutto fatto questo prendo poi invece una colorazione un pochino diversa un po' particolare e parliamo di questa matita di pixie la colorazione è rose glow ed è un bronzo leggermente rosato satinato che trovo sia perfetto per la rima interna volevo qualcosa di presente ma non un bianco e nemmeno troppo scuro perché appunto è già un look abbastanza intenso con la matita nera forse lo sarebbe stato troppo piego al volo le mie ciglia e per rimanere in tema andiamo ad applicare questo mascara qui di pat mcgrath ovvero il dark star mascara è un mascara che mi piace molto che è anche molto molto costoso come sapete lo trovo molto simile al mio adorato lash brag di anastasia che costa un pochino meno se lo dovessi trovare scontato al 30% però è un mascara che ricomprerei perché mi piace molto fa un po' tutto in uno riesce a separare bene le ciglia ma anche a dare un bel volume ovviamente sono andata a sporcarmi dopo vado a pulire tutto lo applico anche sulla rima cigliare inferiore ecco fatto adesso vado a grattare la macchiolina di mascara completo anche l'altro occhio ecco fatto look completato ho riaggiunto anche un po' di gloss che nel frattempo era andato via via sbiadendo che dirvi di questi prodotti? partiamo dal blush assolutamente approvato è un prodotto che mi piace molto e che vi consiglio passando per l'illuminante che vi consiglio solo se avete l'incarnato adatto per utilizzarlo se avete l'incarnato chiaro come il mio e non lo utilizzereste come top coat sinceramente probabilmente non vale l'investimento anche perché tra tutti i prodotti che abbiamo testato come rapporto quantità prezzo effettivamente lo trovo un pochino eccessivo e quindi se è troppo scuro per voi ed andreste ad utilizzarlo solo nei mesi estivi probabilmente non ne vale la pena passiamo infine alla palette che mi piace davvero davvero moltissimo unica accortezza queste shade particolari sono bellissime sono quelle che danno quel qualcosa in più alla palette ma attenzione al fallout o come dico sempre si può partire prima dagli occhi e poi completare la base oppure vi consiglio di utilizzare come vi ho detto una glitter glue perché io onestamente anche se durante i miei test non era stato così eccessivo adesso soprattutto da questa parte dove sono stata un pochino più violenta nell'applicazione ho davvero glitterini su tutto il viso le altre shade si comportano invece benissimo un plauso va a questo matte che è davvero bellissimo intenso ma molto sfumabile anche le altre due shade shimmer più classiche però sono davvero bellissime questa è molto luminosa perfetta per l'angolo interno e questa shade qui è bellissima anche da sola quindi questa palette a me piace molto ovviamente come vi ho già detto io vi consiglio di acquistare questi prodotti quando sono scontati unica accortezza va per la palette perché non so quanto dureranno le scorte perché si tratta di una limited edition anche se rispetto all'esperienza che ho delle precedenti palettes di solito c'è uno stock sufficiente per farle durare un pochino di mesi quindi se siete interessati magari state attenti ai prossimi sconti detto questo vi ho detto tutto quello che ci tenevo a farvi sapere su questi prodotti se il video vi è piaciuto mi raccomando non dimenticatevi di lasciarci un mi piace ma soprattutto di iscrivervi al canale ogni piccola iscrizione per me fa davvero la differenza i close up ve li lascio a fine video a me non resta che ricordarvi di venire a farmi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questi prodotti se avete meditato l'acquisto se li avete acquistati come vi siete trovati cosa ne pensate in generale del brand di Pat McGrath e quali sono i vostri prodotti preferiti detto questo a me non resta come sempre che mandarvi un gigante grossissimo bacio e ricordarvi che se vi va io vi aspetto sempre qui chez nous ciao ciao